Il comune di Ortona ha fatto un avviso pubblico per rilasciare 10 concessioni, di cui 8 nuove, concessioni temporanee per una stagione balneare. Sono quindi nuove in un'area dove attualmente c'era la spiaggia libera, cioè tutti i cittadini potevano fruirle. In questo tratto ci sono le dune, quindi uno dei pochi tratti abruzzesi dove ci sono ancora quella vegetazione dunale abbastanza ben sviluppata e ci sono queste coppie di fratino che è un uccello raro a livello dell'aquila reale, quindi è una specie fondamentale. Le dune sono anch'esse fondamentali per la tutela dell'erosione costiera, per esempio. È ovvio che se uno dà in concessione poi il concessionario potrà metterci ombrelloni sopra, fare attività ovviamente perché glielo fai pure pagare, quindi si sentirà anche nella possibilità di gestire non in maniera corretta questi ambienti così delicati. Basti pensare anche al solo calpestio che distruggerebbe la vegetazione così rara e quindi noi crediamo che sia stato un errore fare questo avviso. Il bando, come tutti i bandi pubblici, sono atti di competenza dell'organo tecnico gestionale, quindi non è la politica che fa il bando. Questo bando rispetta il piano demaniale del 2011 dove ci sono delle concessioni che possono essere date in gestione. Parliamo di una concessione stagionale di tre mesi e quindi non mi sento di aggiungere altro se non quello che questa amministrazione sta lavorando soprattutto sul nuovo piano demaniale che porteremo in Consiglio Comunale a brevissimo. Però possiamo fare una cosa, visto che questa concessione c'è, se qualcuno dovesse chiederla potete provare a collaborare per recintare per esempio la parte dunale, giusto? Noi abbiamo detto che un errore del bando è stato quello anche di non individuare facilmente, anche con le semplici foto aeree, oppure ci veniamo e si fa anche prima, di perimetrare le aree interessate dalle dune per salvaguardarle in maniera più attenta ovviamente e non lasciarle alla mercè di chi prenderà questa concessione. Siete disposti però ad aiutare il Comune a porre queste recinzioni o magari il gestore temporaneo di chi prenderà la spiazza? Noi siamo sempre disponibili a collaborare, noi abbiamo le nostre forze, se il Comune risponde positivamente sicuramente è un passo in avanti. Sindaco, accetterete questa collaborazione? Su questa proposta, quella di perimetrare le dune, credo che da parte dell'amministrazione non ci siano problemi, è sempre da valutare se all'interno del bando può essere inserita questa clausola. Grazie a tutti.